Se volete acquistare i crediti passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice CUPON GIOVI SPO otterrete il 3% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miscritti più di tutti. Bentornati su Giovi H di Spò. Io sono Giovi Spò e questa è l'immancabile serie di scontri tra titani. Stagione numero 2, episodio numero 8. Ebbene sì, arrivati all'episodio numero 8, la squadra inizia a prendere forma. Anche se, ora andremo ad aggiungere il terzo giocatore, Argento. E questo significa che le prestazioni via PINFE non stanno andando particolarmente bene. Ma vabbè, andiamo ad aggiungere l'esterno sinistro. Vi ho chiesto di scegliere tra Maicon, seno sinistro e Raibus, vabbè, dettagli. E voi avete scelto l'esterno sinistro più veloce, ovvero Maicon con 93 di velocità. Allora, oggi spero che Akinfev riesca a fare un'ottima prestazione. O perlomeno a non subire gol. Vediamo ora. Ecco la squadra avversaria, porca vacca. Allora, abbiamo una BBVA, si, Berluce, Jeshe Rodriguez. Ah, qui, l'esterno destro. NBA, se non sbaglio, come CTC. Poi la difesa non conosco. Poi abbiamo Navas, il portiere della... Dovrebbe essere della Costa Rica. Maledetta Costa Rica. Comunque, Navas è buono. È buono. Obinna, il tiro di Obinna. Victor Obinna, grandissimo. Obinna, stop. E tiro, raso terra, nulla poi il portiere. Navas. Iniezione a luce. Esce Akinfev, grande Akinfev. Vai Akinfev, mio papà, fanno culo, tua sorella di tua sorella. Mamma mia, mamma mia, ma che palle. Ma che palle colossali. Che palle, strapalle colossali. Fai una parata bella, poi ti fai una cacata pazzesca. Il solito Akinfev del Dinho. RONDON, 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 RONDON. RONDON, RONDON, RONDON. RONDON. Sono stonatissimo, capítulo. Il tiro. Ma vaffanculo a Kinfer Ma troia di merda Oh mamma mia Mamma mia Non è possibile Di nuovo un altro argento Di nuovo un altro argento Ma vaffanculo a Kinfer Di nuovo Criscito Togliti davanti al cazzo Vai Honda Fai un colpo di testa Bocchetti Bocchetti al cinquantesimo Ma non serve a nulla segnare Se no solo per vincere Ormai dovrò aggiungere Un altro giocatore A Kinfer Sei la merda più totale A Kinfer non mi pare Un fottuto tiro di merda Mi ha fatto 4 tiri in porta 3 gol Cioè a Kinfer Dove cazzo vivi Ma come cazzo fai ad essere un portiere Se avete un difensore centrale Il più scazzo di foot Mi pare Mi pare Di onda Vai così Onda Almeno vinciamolo Sta partita Ormai predestinata Ad aggiungere un fottuto Altro argento Vai Ovin Al volo Mamma mia Che bellissima red Questo Victor Ovin Oggi ha fatto Una bellissima doppietta Questo però è bellissimo È da rivedere in replay Un mancino a volo Mamma mia Che tiro Mamma mia Bellissimo 5 a 3 Andranno a cercare la testa I bocchetti Bocchetti E questa volta ti stai zitto Ti stai zitto Zitto 6 a 3 A casa Vai a dormire Vai a giocare con i pupazzi Non giocare alla playstation Gioca con i pupazzi Che è meglio Finisce dunque 6 a 3 3 gol subiti A KINFER Un'incazzatura con questa persona Che non so mi sia E quindi Ora dovrò aggiungere Un giocatore Argento Vado a fare una ricerca E vi dico Due nomi Voi restate qui Allora potrete scegliere Tra Kallstrom E Hamedov Entrambi Cici Entrambi Argendo Naturalmente Scegliete uno fra questi due Commentando qui sotto Se il video vi è piaciuto Lasciate un bello Pollicione in su Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Qui a Giovispo Vi saluto e vi ringrazio E ci vediamo alla prossima Con un nuovo video Ciao